Seguendo il trend nazionale del bautaggio, anche la Sardegna ha premiato il centrodestra che vede i suoi candidati sindaci vincere sui rivali del centrosinistra a Oristano e Selargius, una tornata elettorale caratterizzata dall'astensionismo, ma che ha premiato il centrodestra all'opposizione in Regione. Il nuovo sindaco di Oristano è Andrea Luzzo, che ha ottenuto il 65,3% dei voti contro il 34,7% di Maria Obinu, candidata del centrosinistra. Nella città di Eleonora d'Arborea si tratta di un cambio dalla guardia dopo cinque anni di amministrazione e di centrosinistra. Stesso risultato a Selargius, dove il centrodestra si conferma la guida del comune. Il nuovo sindaco è Pierluigi Concu, che ha superato col 51,2%, il candidato del centrosinistra Francesco Lilliu, che si è fermato al 48,7%. Ora i risultati di Oristano e Selargius saranno al vaglio dei partiti sardi, anche per riflessi che potrebbero avere sulla solidità della coalizione che guida la Regione. Il centrodestra ha sottolineato il successo ottenuto e già si proietta verso le elezioni regionali del 2019. Per il centrosinistra si tratta di una battuta d'arresto che fa male, specie a Oristano. Risultati che rischiano di accrescere le fibrillazioni in una maggioranza di centrosinistra, che dovrà affrontare sfide importanti in Consiglio regionale, a partire dall'approvazione della legge urbanistica che approda domani in Aula.